Oggi parliamo del Tonor TA20, un preamplificatore microfonico adatto ai microfoni a condensatore oltre che quelli a nastro. Ma come suona? Scopriamolo insieme. Come ti raccontavo nell'introduzione di questo video, oggi proviamo il Tonor TA20, che è qui. Il Tonor TA20 che mi è stato inviato dai ragazzi della Tonor in cambio di una recensione. Ovviamente loro non sanno che cosa dirò, non hanno voluto vedere prima, non mi hanno imposto nulla, quindi sono libero di dire quello che voglio. Allora, mi è arrivato tramite Amazon. Ok, allora, Tonor. Questa è la confezione. C'è un foglietto illustrativo dove ti spiega, ok, le specifiche e ti spiega come configurarlo, ma sono tutte cose che vedremo in questo video. E poi c'è qui il Tonor TA20. Ok, io butto tutto perché dà fastidio. Eccolo qui, Tonor TA20, un preamplificatore microfonico che ha ovviamente ingresso e uscita per il microfono e ha una spia luminosa. Allora, che cosa faremo oggi? Testeremo questo Tonor TA20 con questo microfono, ovvero lo Shure SM7B. Perché? Perché questo microfono è uno dei microfoni più bisognosi di gain in assoluto. Ok? Benissimo. Allora, iniziamo. Quello di cui abbiamo bisogno è un cavo XLR maschio femmina. Un secondo cavo. Io ti consiglio un cavo corto, sempre XLR maschio femmina. Ovviamente una scheda audio. Io ho la SSL2, ma puoi scegliere qualsiasi scheda audio. Un microfono. Ovviamente in questo caso noi lavoreremo con lo Shure SM7B, ma puoi utilizzare qualsiasi microfono dinamico o a nastro. E infine il Tonor TA20, il preamplificatore microfonico del quale parleremo oggi. Ora che abbiamo visto tutto ciò che serve per utilizzare questo preamplificatore microfonico, proviamo a connetterlo. Prendi la scheda audio, prendi il cavo corto, quello che ti ho suggerito come cavo XLR corto, inseriscilo dentro la scheda audio. L'altra estremità dentro il Tonor. Benissimo. Poi prendi l'altro cavo XLR maschio femmina e inserisci un'estremità dentro il Tonor e l'altra estremità nel microfono. Fatto. Ora che abbiamo visto tutto ciò che ci serve e come utilizzare il Tonor TA20, voglio darti qualche informazione su questo preamplificatore microfonico. È un preamplificatore microfonico che va utilizzato solo ed esclusivamente con microfoni dinamici o al massimo anche con quelli a nastro. Non utilizzarlo per nessun motivo al mondo sui microfoni a condensatore. Ok. Fatta questa premessa, altra cosa fondamentale da sapere è che questo preamplificatore ha bisogno della 48V per funzionare. Ma attenzione. Che cosa vuol dire questo? Che sulla scheda audio devi attivare la 48V che arriverà al preamplificatore per alimentarlo ma, e questa è la cosa fondamentale, la 48V non passerà verso il microfono. E tu sai bene che i microfoni dinamici o i microfoni a nastro non hanno necessità della 48V. Ok. Quindi se questo preamplificatore non avesse questo switch dove prende la 48V ma non la fa uscire, brucerebbe ovviamente il tuo microfono. Quindi questi preamplificatori sono fatti apposta per essere alimentati dalla 48V ma non farla arrivare al microfono. Ok. Quindi ti devi ricordare, questo per dirti che ti devi ricordare di attivare la 48V sulla scheda audio anche se il tuo microfono come questo ovviamente è un microfono dinamico perché la 48V arriva qui ma non qui. Benissimo. Fatte tutte queste premesse entriamo nel dettaglio tecnico. In questo momento lo Shure SM7B sta entrando dentro la mia SSL2 e il gain è a ore 9. Ore 9 che mi dà un gain, sto guardando dentro il reaper, tra meno 18 e meno 12. Quindi perfetto. Ok. Sto un attimo in silenzio per sentire se si avverte del rumore di fondo perché comunque il gain della scheda audio è a ore 9. Ora io so bene che la SSL2 è una scheda audio molto silenziosa quindi anche a 9 non c'è nessun tipo di problema. Questo problema si potrebbe udire molto chiaramente in schede audio non di qualità come la SSL2. Quindi quelle che non hanno preamplificatori cristallini ma hanno preamplificatori un po' rumorosi. Sto un attimo in silenzio. Ok. Come senti ore 9 il gain su questo microfono non c'è nessun rumore di fondo. Benissimo. Adesso che cosa facciamo? Agganciamo questo alla scheda audio e proviamo a capire quanto risparmiamo sul gain della scheda audio e proviamo a sentire se questo preamplificatore fa rumore o meno. Ok? Iniziamo. Ok. Benissimo. Allora in questo momento ho dato la 48 volte come ti raccontavo prima e quindi adesso la mia voce sta entrando nel microfono, sta passando dentro il toner, sta entrando nella SSL2 e sta andando dentro Reaper. Adesso il gain della SSL2 non è più a 9 ma è a 7. Ok. Quindi più o meno ore 2. Va bene? Quindi abbiamo risparmiato due tacche di gain di preamplificatore sulla scheda audio. Provo a stare in silenzio per sentire se per caso questo preamplificatore introduce rumore di fondo. assolutamente no. Stavo guardando anche sul meter di Reaper e non c'è nessun rumore di fondo. Quindi ricapitolando, questo preamplificatore microfonico serve a pilotare meglio, a permettere, diciamolo meglio, a permettere alle schede audio che non hanno abbastanza gain di poter pilotare microfoni dinamici che sono molto bisognosi di gain, non solo l'SM7B come in questo video ma anche lo Shure SM58 o tutti gli altri microfoni dinamici che necessitano di tanto gain. Ok. Questo preamplificatore dà 20 dB in più di gain. Quindi se la tua scheda audio arriva a 45, a 50 e non riesci a pilotare questo perché ne servono almeno 60 dB per pilotare questo microfono, se anche avessi 40-45 con 20 dB in più riesci tranquillamente a pilotare questo microfono senza introdurre rumore di fondo. Ok. Quindi volevo farti sentire più che altro, quindi mi auguro che tu abbia messo le cuffie, ma se non l'hai fatto spegni, stoppa questo video, torna indietro e riascoltala con le cuffie perché in diversi test che ho fatto mi sembra tutto sommato che il suono sia decente, non viene aggiunto rumore di fondo, quindi tutto sommato per schede audio che hanno bisogno di una maggiore preamplificazione, attrezzi, strumenti come questo, preamplificatori, microfonici, possono essere la soluzione migliore. Fammi sapere se tu utilizzi microfoni dinamici e se utilizzi già dei preamplificatori microfonici come ad esempio il Cloudlifter, il Fated, il Dynamite, il Clark Technics, ce ne sono tantissimi. Questo qui è nuovo e tutto sommato sembra interessante perché è tutto in metallo, ha uno chassis molto molto bello, suona bene, quindi il prezzo è di su Amazon 65 euro, ma ho visto che nel momento in cui sto registrando questo video c'è uno sconto del 15%, quindi potrebbe essere interessante. Non so se nel momento in cui vedrai questo video ci sarà ancora questo sconto, però adesso c'è. Ok. Bene, che dirti. Io ti ringrazio per aver guardato questo video. Ovviamente qualsiasi domanda, dubbio, curiosità, non esitare a commentare questo video e io risponderò nel più breve tempo possibile. Va bene? Ti ringrazio e noi ci vediamo settimana prossima. Ciao!